Siamo in compagnia di Alberto Toccatelli, responsabile del settore giovanile della Prodesenzano. Alberto, cosa ci racconti dei nostri giovani? Sono molto soddisfatto della stagione in corso, i nostri giovani che fanno classifica, quindi i giovanissimi allievi stanno andando molto bene, sono nelle prime posizioni in tutte le categorie. L'obiettivo è quello di cercare di vincere per riuscire a fare i regionali alquanto prima, in modo da preparare i nostri ragazzi per un futuro in prima squadra. Con i piccolini stiamo svolgendo anche lì un ottimo lavoro, con i laureati in scienze motori, infatti la nuova politica è quella di cercare di prendere più persone competenti del campo, infatti i laureati in scienze motori studiano per far questo e ne abbiamo moltissimi, sia con i piccoli amici che con i pulcini e gli esordienti. Punto sugli allenatori, sei soddisfatto del loro lavoro? Anche tu sei allenatore dei nostri giovanissimi, com'è l'esperienza? A me piace tantissimo allenare, purtroppo con il ruolo anche di responsabile, non so se l'anno prossimo riuscirò ancora, però gli allenatori sono riusciti a creare uno staff che ha portato allegria, passione, attaccamento alla maglia e poi uno staff di persone qualificate. Infatti cercheremo anche l'anno prossimo di mettere in ogni squadra un allenatore, un vice allenatore e anche un preparatore atletico. Anche qua una rivoluzione in modo che ci sia un laureato in scienze motori, in qualità di preparatore atletico che affianchi la squadra e proponga dell'esercitazione consune a livello d'età. Il responsabile della preparazione è Alberto Pasini che sta svolgendo un lavoro duro e faticoso anche di archiviazione in modo di avere un database che duri nel tempo e negli anni. Tu come responsabile curi il vivaio della Prodesenzano, quindi in ottica prima squadra che miglietta in eccellenza, che rapporti ci sono, come state lavorando? Perfetto, io sono anche un giocatore della prima squadra, sperando di riuscire a giocare quest'anno, se gli infortuni me lo permettono, una voglia matta. In prima squadra sta lavorando molto bene e da quest'anno c'è una politica dei giovani molto più accentuata, anche per le regole che la FIGC impone, con il mister Cartesane, il direttore sportivo Bianchini e il direttore generale Tonoli, stanno appunto svolgendo un lavoro favoloso e speriamo di vedere i nostri ragazzi in un futuro, anche prossimo, in prima squadra. Noi cerchiamo di dargli le basi in modo che riescano a reggere il livello della prima squadra, che è in eccellenza un livello molto alto. Come settore giovanile abbiamo in cantiere un po' di idee e di progetti nel periodo primaverile, c'è in programma una trasferta europea? Andremo in Spagna, vicino all'Ore de Mar, in una località bellissima che si chiama Blanes, dove c'è il torneo più grande d'Europa, infatti ci saranno 250 squadre e noi andiamo con 100 dei nostri ragazzi, una ventina di allenatori e collaboratori e riusciamo a portare tutte le categorie, tra esordienti, giovanissimi e allievi, abbiamo 6 squadre, quindi sarà una trasferta numerosissima. Un'altra novità, nel mese di maggio la Pro Desenzano sarà l'organizzatrice di un grosso torneo giovanile, cosa ci racconti? Da quest'anno abbiamo cercato di portare a Desenzano delle squadre professionistiche a livello giovanile. Desenzano merita di avere un torneo di prestigio e quindi ci saranno società che militano in Serie A come il Brescia, il Parma, il Chievo e tantissime società di Serie B e Serie C. Il periodo è quello di maggio, dal 10 al 29, speriamo che venga fuori un discorso che si possa ripetere negli anni. Bellissime iniziative, c'è anche un intenso rapporto con il Chievo Verona Calcio. Sì, siamo direttamente affiliati con loro, i rapporti quest'anno si sono intensificati, sono molto stretti e tanti nostri ragazzi sono andati a giocare, militano attualmente nelle giovanili del Chievo Verona e speriamo che questa collaborazione continui nel tempo. Nel complesso sei soddisfatto del lavoro che si sta facendo? Molto soddisfatto, abbiamo iniziato nel migliore dei modi, sono reduce da una partita domenica mattina degli allievi che hanno pareggiato contro la prima classifica 1-1, ma era da tempo che non provavo emozioni così forti a livello giovanile nel vedere una partita di ragazzi, un pubblico numerosissimo, c'erano più di 200 persone, la partita poi è stata molto avvincente e combattuta. Abbiamo anche un sito internet www.prodesenzano.it che è un sito che da quest'anno lo aggiorniamo quotidianamente, ci sono tutti gli articoli delle nostre giovanili, della prima squadra, degli ottimi servizi, sempre a cura di Marco Rizzini, tantissime fotografie, andatelo a vedere. Quindi a fine stagione speriamo di raccogliere i frutti dell'impegno che i nostri ragazzi mettono agli allenamenti nella partita domenicale e del sabato. Speriamo di vincere qualche campionato con gli allievi e con i giovanissimi, come già detto in precedenza, in un'ottica regionale dove le squadre sono tutte di livello e ogni partita, il sabato o la domenica, prepara i nostri ragazzi sia dentro che fuori dal campo. Noi stiamo cercando di dare le basi ai nostri ragazzi sia a livello tecnico-tattico che a livello mentale. Complimenti per tutto quello che si sta facendo e complimenti anche a te Alberto per la passione che metti in tutto quello che fai. Grazie mille.